E ragazzi, 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 non mi chiamate scemo o impazzito o esaurito quando vi dico che questa Juve è una mina vagante e questa Juve è una diretta concorrente per lo scudetto, non per il gioco, non per la qualità, non per quello che ci offre all'interno del campo, ma semplicemente perché oggi, giocando una partita normalissima, magari non troppo meritandolo, o sì, dipende dai punti di vista, vince una partita importantissima e la vince senza poi fare nemmeno troppa fatica. Perché parliamoci chiaro, il Milan oggi non ha fatto il massimo, a mio parere, ha avuto poi ovviamente il condizionamento dovuto all'espulsione di Ciao nel primo tempo, rivedibile l'atteggiamento del difensore del Milan. Ripetibile perché non è stato il primo allarme quello, è stato il secondo e il terzo e poi alla fine ha fatto un gravissimo errore che ha condizionato un'intera gara, ma lo ha fatto perché? Perché nel voler andare sempre troppo in anticipo, Ken è stato bravo e intelligente e lì ha preso, diciamo, un vantaggio la Juve non indifferente, perché poi ha potuto gestire la partita, come non piace a molti, ma in maniera più che efficace, perché ha vinto 1-0, quindicesimo clean sheet nel 2023, tre punti e aggancio alle zone nobili, perché con questa vittoria la Juve aggancia le zone nobili e senza coppe inizia ad essere sempre di più una diretta concorrente. E' così, punto e basta. E chi non vuole pensare questo, sbaglia. Ma prima di iniziare ragazzi e di parlare un po' della partita e di come a mio parere si è sviluppata, vi chiedo di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina e condividere il video. Mi raccomando, è molto importante, ci tengo tantissimo e a voi non costa assolutamente nulla. Allora, Milan-Juventus 0-1, gol dell'ex Locatelli, che poi gol, insomma, il tocco di Grunic è stato fondamentale, no? Per mettere un po' fuori causa mirante, che ha dimostrato di essere ancora un portiere super affidabile e fa il terzo al Milan e oggi ha fatto due o tre interventi di pregevole fattura. Che partita è stata? Una partita come mi aspettavo, una Juve che si è chiusa, ha provato a sfruttare le ripartenze, ha provato a sfruttare le caratteristiche dei suoi giocatori e secondo me lo ha fatto nel migliore dei modi. Devo dire che non ha dato l'impressione di volerla proprio vincere questa partita, però è una Juve che mi è piaciuta. Perché poi bisogna parlare di cose concrete, di fatti e questi fatti ci dicono che la Juve ha rischiato pochissimo anche in 11 contro 11 e poi ha vinto fortunatamente, ma poteva poi nel corso del secondo tempo consacrare ancora di più questo risultato e vincere anche con più gol. Perché a un certo punto il Milan ha staccato la spina e non ci ha più creduto e l'espulsione di Ciao è una macchia indelebile nella partita del Milan e del giocatore stesso, perché ha dimostrato poca lucidità. In quel momento della partita, quando già come ho ripetuto all'inizio del video, c'erano dei campanelli d'allarme importanti, perché Ken non era la prima volta che faceva quel movimento e che andava via, e Ciao è stato poco esperto e poco intelligente e ha macchiato la partita del Milan, che poi ha dovuto levare Pulisic, altra scelta secondo me un po' discutibile, è vero per questione di equilibrio lo ha dovuto fare, però in una partita in cui la Juve comunque non voleva prendere il pallino del gioco, e si è visto anche questo nel secondo tempo, anche in solidarietà numerica, ha lasciato molto il campo e il pallone al Milan e ha giocato di ripartenza, e Pulisic poteva essere comunque un'arma che ti permetteva di mantenere il pallone anche nella tre quarti offensiva, però ci sta, per questioni proprio numeriche, per questioni di equilibrio, Pioli ha deciso di rinunciare a lui, però l'espulsione di Ciao allo slide indoors della partita, e poi la Juve ha fatto quello che meglio sa fare, aspettare, aspettare, perché poi con la qualità dei singoli l'occasione della Crei, ha assegnato probabilmente nell'azione in cui meno si meritava di farlo, però ha vinto meritatamente, io mi sento di dire che la Juve oggi ha vinto meritatamente la partita, è un Milan non Milan che perde la sua seconda partita in campionato, e non è un caso che ha perso il derby e ha perso contro la Juve, perché alla terza giornata non considero un super scontro diretto quello contro la Roma all'Olimpico, perché la Roma non era quella Roma che stiamo cercando di apprezzare in maniera più positiva oggi, e quindi vuol dire che due scontri diretti su due li ha persi, e secondo me li ha persi male, perché in uno ha perso con un punteggio roboante, 5 a 1 nel derby con l'Inter, e oggi ha perso una partita contro una squadra che non ha fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma che con le sue caratteristiche e quindi col minimo sforzo ti ha messo molto in difficoltà, e poi ovviamente c'è da dire che l'espulsione l'ha aiutata, però oggi la Juve ragazzi ha meritato e chi dice di no secondo me sbaglia, sbaglia di tanto perché oggi mi è piaciuta la prestazione della Juventus, poi le solite show di Allegri a bordo campo, si è allevato la cravatta, voleva chiudere completamente a tutti i costi questa partita la bandierina, facendo possesso palla, insomma come la partita del giovedì, ok, però con le unghie e con i denti, con qualsiasi condizione possibile, voleva portare a casa i tre punti e lo ha fatto, e poi un altro grande momento della partita secondo me è la parata di Szczesny su Giroud nel primo tempo, Szczesny che anche oggi ha dimostrato di essere un super portiere, perché quella parata in quel momento della partita ti dà sicuramente uno scatto in più, non permette al Milan di andare in vantaggio e permette alla Juve di giocare la partita in un certo modo, e c'è poco da dire perché poi non è che sia successo così tanto all'interno dei 90 minuti, è una Juve che così può puntare tranquillamente alla vittoria del campionato, a mio parere, ma non lo scopriamo oggi e non a caso l'ho messa prima nella mia prediction della Serie A, perché non emozionandomi, non piacendomi, non giocando bene, però è la Juve, non ha le coppe e nonostante qualche piccolo intoppo inizio stagione, poi quando imbrocca la partita difficilmente la va a perdere, o la sbaglia o sbaglia l'atteggiamento. Oggi è la dimostrazione, è andata a vincere a San Siro contro un Milan che ha sempre dimostrato di essere squadra e che oggi forse ha scricchiolato un pochino di più, non mi è piaciuta tanto, ripeto, non mi è piaciuta tanto anche in 11 contro 11, ha fatto fatica oggi a scardinare il muro bianco-nero, ha fatto fatica a trovare le sue solite giocate, ha fatto fatica a trovare i terzini che venivano dentro, insomma la Juve ha trovato una serie di accorgimenti tattici che hanno messo molto in difficoltà il Milan e ha giocato sulle ripartenze, quando si aprivano gli spazi, da lì è nato il rosso di Ciao, da lì sono nate molte occasioni nel secondo tempo, è stato un po' questo il fulcro della partita, l'obiettivo è stato raggiunto, la Juve ha preso i tre punti, il Milan ha subito una sconfitta secondo me pesante dal punto di vista emotivo, perché poi la settimana prossima insomma c'è un altro scontro diretto molto importante a Napoli e qui già no, si iniziano a tirare le somme per il Napoli, per il Milan, per l'Inter che giocherà con la Roma, insomma ci sono una serie di partite e una serie di cose che stanno succedendo, che ci stanno permettendo di andare più nel profondo del campionato e di capire realmente chi ha la stoffa, chi ha il coraggio, chi ha la forza, chi ha la voglia, la determinazione e la costanza per arrivare in alto. Perché ad oggi ancora c'è molto equilibrio, ma la partita di stasera molto lo ha detto. Detto ciò ragazzi, questo era il mio pensiero sulla partita, la Juve vince 1-0, vince meritatamente a San Siro contro il Milan, il big match che chiude la domenica di Serie A, domani altri due partite importanti, Udinese Lecce e Fiorentina Empoli che chiuderanno il turno, poi la Champions, l'Europa League, la Conference, insomma, fino ad arrivare ad un'altra settimana di Serie A molto molto importante, che sarà quella della prossima giornata. Dal vostro Andrea è tutto, un grande abbraccio e buon calcio a tutti.